Per chiudere, dottoressa Garlatti, vorrei farle una domanda, perché siccome tanti ce lo scrivono anche, i minori ucraini non accompagnati che arrivano sono adottabili oppure no? Assolutamente no. L'accoglienza è una cosa diversa, l'affido temporale è una cosa diversa, non sono bambini abbandonati e quindi non sono adottabili. E ci tengo a sottolinearlo e anche a ribadirlo con forza, anche quelli che provengono dagli orfanotrofi, perché negli orfanotrofi ucraini vengono spesso ospitati bambini che provengono da famiglie disagiate, cui genitori non hanno condizioni economiche sufficienti per mantenerli, o bambini che affetti da disabilità, ma non sono bambini abbandonati, quindi non è questa la strada per la coppia che vuole l'adozione. Assolutamente, si tratta di un'accoglienza che deve essere temporanea e questo deve essere chiaro.